Una giornata importante che unisce, dopo oltre 70 anni, la città della Spezia con Israele. Un legame che passa oltre la storia, passa attraverso queste immagini che ci raccontano come la vita di tante persone fu segnata da quei momenti. Per molti anni, le persone della Spezia erano molto, molto orgogliose. La mostra che vedete è cominciata al Museo di Eretz Israel nel 2016 a Tel Aviv e l'abbiamo portata qui alla Spezia perché la Spezia ha avuto un ruolo fondamentale nell'esodo degli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento fino in Israele. Orly Bach è la nipote di Hunda Razzi che è stato uno dei due eroi che hanno reso possibile questa impresa e l'idea della giornata di oggi è stata proprio di commemorare lo sforzo fatto allora non solo da persone oggi come Euda Razzi ma soprattutto anche cittadini dell'Aspezia senza le quali questo non sarebbe stato possibile. E quindi unire il passato e il presente con queste due mostri. Da un lato l'inaugurazione del modo Pagliari e dall'altro l'inaugurazione di questa mostra che racconta tutta la storia dell'Aliabet in maniera tale da unire i due paesi che oggi come allora hanno un legame così forte. Grazie.